Se ne parla da almeno un paio di settimane, ma di sicuro al momento non c'è ancora nulla. Ci riferiamo alla ipotesi di consentire ai dipendenti pubblici di andare in pensione con quota 92, cioè a 62 anni di età con un minimo di 30 anni di contributi. L'idea è del ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, il quale pensa che con questa misura si potrebbe avviare un processo di svecchiamento dei ruoli nella pubblica amministrazione. In effetti nel nostro paese l'età media nel pubblico impiego è di circa 51 anni, la media degli uomini è di 50 anni, quella delle donne di poco superiore a 51. Negli ultimi 20 anni l'età media è aumentata in modo significativo, in quanto nel 2000 era di circa 43 anni. Il fenomeno riguarda ovviamente anche la scuola, dove l'età media era di 47 anni nel 2000 contro i 51 attuali. Va comunque detto che sulla base delle notizie ora disponibili il provvedimento a cui sta pensando Brunetta non dovrebbe riguardare il comparto scuola. Il ministro della Funzione Pubblica ha parlato di un meccanismo che dovrebbe valere per quei lavoratori demotivati o ritenuti inadeguati in quanto non in grado di aggiornarsi sull'uso dei nuovi dispositivi informatici. La distribuzione del personale scolastico fra le diverse fasce di età dovrebbe invece suggerire di incentivare l'uscita dal lavoro. Lo stesso Ministero dell'Economia ha più volte evidenziato che le disposizioni normative sul contenimento delle assunzioni hanno limitato negli anni l'ingresso di personale nelle prime classi di età anche nel comparto scuola, comparto nel quale peraltro si entra sempre più tardi anche a causa della maggiore qualificazione richiesta sia in termini di titoli di studio che di servizio. In ogni caso, se anche il provvedimento venisse esteso alla scuola, è bene sapere fin da ora che il trattamento economico sarebbe decisamente poco allettante, in quanto la pensione verrebbe calcolata per lo più con il sistema contributivo, non con quello retributivo che è decisamente più favorevole. Difficile fare calcoli precisi, ma si può prevedere che con 35 anni di servizio un docente 62enne andrebbe in pensione con un assegno non superiore al 65-70% dell'ultimo stipendio. Su questo tema continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, seguiteci anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it, mandateci anche ovviamente i vostri commenti, le vostre osservazioni e noi ne daremo conto come di consueto. Grazie.